Musica Ciao a tutti, sono Silvia Ranieri, sono fisioterapista e ideatrice del metodo Pilates Physios. Quando ho incontrato il metodo Pilates per la prima volta ho pensato che fosse una tecnica ideale da utilizzare a livello terapeutico. Io avevo appena finito di imparare a prendere il metodo Mesier che era una tecnica di rieducazione posturale statica e quello che stavo cercando in quel momento era una tecnica di rieducazione posturale dinamica che mi permettesse di lavorare sul paziente correggendo il movimento però mentre si muoveva il paziente. E quando ho conosciuto questa tecnica ho pensato che fosse quello che stavo cercando. Musica Sì, assolutamente. Una delle cose che io ho aggiunto alla tecnica Pilates classica, oltre alle altre modifiche che ho fatto, però diciamo una delle cose che più mi dà soddisfazione è quella di insegnare il paziente a gestire il proprio movimento anche da solo, cioè anche al di fuori dell'ambiente terapeutico, in modo che possa anche diventare attore principale della sua rieducazione e responsabilizzarsi anche rispetto al proprio stato di salute. Musica Se siete dei professionisti che state cercando una tecnica per lavorare sulla rieducazione posturale dei vostri pazienti e sul controllo delle disfunzioni di movimento, questa è la tecnica per voi, perché vi permette di correggere in maniera globale il movimento dei vostri pazienti e di dargli anche la possibilità di autocorreggersi anche successivamente a casa, non solo eseguendo gli esercizi che magari vi insegnate in studio, ma anche praticando altre attività sportive o di movimento, quindi lasciandoli liberi anche di scegliere l'attività motoria che poi più preferiscono, sempre però mantenendo un certo controllo sul movimento. Musica Ciao a tutti i colleghi, spero di incontrarvi presto nei miei corsi e spero di aiutarvi a migliorare il movimento dei vostri pazienti. Musica 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 Musica